Nova 2-0, esplosione che va in finale con un tuo gol. Meglio di così? Sì, certo. Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria. Andiamo avanti e crediamoci. Ti abbiamo visto uscire. Come stai fisicamente? No, sto bene. Ho un piccolo problema con la cavia, ma tutto a posto. Adesso andiamo avanti. Adesso si manca l'ultima partita, la finale contro lo Spezia. Dovete recuperare energie. Siete pronti? Sì, certo. Questi giorni sono importantissimi per recuperare fisicamente, mentalmente. Crediamoci, crediamoci e possiamo fare. Onestamente, quanto credevate a questa vittoria? Credevate, non ho capito. Speravate in questa vittoria? Sì, tutti i ragazzi speriamo, tutti crediamo. È importante, non posso spiegare, ma sono molto contento. Complimenti intanto per l'italiano e poi se vuoi dare un messaggio ai tifosi, visto che adesso il tuo italiano va anche bene. Grazie a tutti i tifosi. Crediamoci, andiamo avanti. Grazie, grazie a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti